amici di fulvia le sue ricette benvenuti questa bontà qua che vi presento oggi è una sovraccoscia di pollo con pancetta e provola una squisitezza da provare assolutamente e quindi andiamo a vedere come prepararla prendete delle sovraccosce di pollo e le andate a disossare o ve le fate disossare dal vostro macellaio adesso facciamo delle incisioni nella parte della pelle in questo modo eviteremo che si vada a restringere troppo e risulterà più uniforme in cottura adesso lo andiamo ad aromatizzare ho messo della paprika dolce abbondante del rosmarino fresco andiamo a dare profumi sapori adesso aggiungiamo uno spicchio d'aglio spezzato a metà mettiamo pure un po di succo di limone un bel giro d'olio extravergine d'oliva pizzichino di sale da ambo elati e pepe da ambo elati e andiamo a massaggiare delicatamente le sovraccosce di pollo e le facciamo poi riposare per un'oretta anche due ore in frigorifero in modo che si insaporiscano bene vedete massaggiatele in modo che i profumi e i sapori entrino all'interno della carne li coprite con pellicola e le andiamo a far marinare in frigorifero per circa un paio di ore perfetto dopo aver trascorso questo tempo prendete una padella e la scaldate per bene senza mettere olio senza mettere grasso iniziate la cottura dalla parte della pelle e ovviamente mettete il coperchio sopra e fate cuocere fin quando non sarà ben croccante girate e fate la stessa cosa dall'altro lato questa è la prima fase di cottura delle sovraccosce di pollo mi raccomando mettete il coperchio in modo da cuocerle meglio adesso prendete un bel pezzo di scamorza affumicata e la tagliate a fette spesse due centimetri e poi fate vedete dei bastoncini così grandi questa è la dimensione adesso il pollo è pronto lo andiamo a nappare col suo stesso grassetto capite che non serviva mettere l'olio vedete in maniera tale da ridare i succhi che ha tirato fuori al pollo e lo andiamo a rendere più succoso e gustoso adesso facciamo delle incisioni dalla parte interna dalla carne mi raccomando fate al massimo 3 4 incisioni in base alla grandezza della sovraccoscia dalla parte della carne e proprio dentro l'ingisione andate a mettere i pezzettoni di scamorza affumicata che poi si scioglierà nella seconda fase di cottura andate a coprire con della pancetta io ho usato una pancetta coppata ma potete usare anche una pancetta tesa insomma mettete il saluto che più preferite io vi consiglio la pancetta coppata perché ha un buon equilibrio tra grasso e carne l'ho accompagnata con delle patate a fette con olio e parmigiano eccola qua dopo circa 10 minuti un quarto d'ora a 200 gradi è completata e che delizia l'ho andata a servire ancora calda con la scamorza affumicata filante la pancetta croccante le patate a parmigiano ad accompagnare è un secondo piatto delizioso gustosissimo buono 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 vi consiglio di prepararlo e vi consiglio inoltre di seguirmi nei miei canali social iscrivetevi al mio canale youtube ciao a tutti da fulvio alla prossima ricetta e gustatevi questo pollo fantastico grazie a tutti